ciao ragazzi ciao a tutti ben ritrovati e dunque una delle cose che anche mi viene chiesta abbastanza spesso è perché hai scelto fujifilm e non altre brand di fotocamere che producono mirrorless allora vi do 5 5 dei motivi che mi hanno più o meno indotto a come dire a passare a fujifilm e non ad altri brand come per esempio sony che sono comunque produttrici di fotocamere eccezionali veramente bellissime ma io ho scelto fujifilm allora quali sono questi questi motivi vado subito ad elencarli punto primo leggerezza e compattezza sì perché passando da canon a fujifilm ho trovato un ridimensionamento di tutto se con canon andavo in giro con quasi due zaini con di attrezzatura parliamo solo di fotocamera e obiettivi e filtri non cose particolari con fujifilm mi sono ritrovato solo con uno zaino con tutto ridotto comprese le imbragature comprese le batterie comprese lo scatto compreso i treppiedi mini treppiedi è tutto ridotto e pesano veramente molto molto meno gli obiettivi pesano molto meno gli obiettivi ovviamente essendo fujifilm aps c sono anche ridotti nelle dimensioni quindi tutto più compatto quando dovevo passare quando ho voluto prendere in considerazione il passaggio da reflex a mirrorless avevo preso in considerazione anche sony però guardando le dimensioni sony alla fine è un po più compatta come i corpi macchina però la realtà è che le lenti sono comunque gigantesche quindi la mia decisione valutata oltre ad aver oltre dal fatto che comunque ho avuto in mano delle fujifilm è ricaduto appunto su su fuji quindi sicuramente la prima è la compattezza e la leggerezza seconda cosa secondo motivo per cui fujifilm mi ha convinto gli aggiornamenti firmware fuji ascolta i suoi clienti e ogni tot aggiorna il firmware io non ero abituato a una cosa del genere canon non ha mai aggiornato assiduamente firmware e così e tutti anzi tutti gli aggiornamenti erano soltanto a piccole correzioni con con diciamo degli aggiornamenti sporadici non c'erano mai delle radicali features in più non c'erano mai delle radicali cambiamenti non c'era mai qualcosa in più quando canon voleva voleva perché oramai non mi interessa proprio di tanto voleva cambiare le caratteristiche di una macchina fotografica non agiva via firmware ma agiva direttamente cambiando la macchina fotografica ed una cosa che onestamente ho sempre ritenuto inaccettabile ripetisco anche una cosa queste caratteristiche sono di fuji film ma non è detto che non siano anche di altri produttori di bindi di mirrorless al momento io ritrovo queste caratteristiche di fuji film quelle che mi hanno appunto conquistato terza caratteristica delle fotocamere fuji film che mi ha in qualche modo cambiato la vita le features che ci sono all'interno della macchina fotografica un esempio l'intervallometro una cosa che è una cosa talmente normale che mi sembra quasi sciocco il pensare che esista un fotocamere senza un intervallometro eppure sì invece fuji film la inserisce è di default nel firm nel firm oltre ad esempio alle simulazioni dei film cavallo di battaglia dei jpeg di fuji film che sono veramente molto poco compresse un sacco di film di features che ci sono soltanto in alcuni modelli di punta di altre brand invece fuji film le mette dentro in quasi tutte le sue le sue fotocamere ovviamente quelle più economiche hanno delle caratteristiche in meno quelle più costose ovviamente le caratteristiche in più ma di per sé ha una serie di caratteristiche che non sto a rincarvi se non non finisco in più in più rispetto a tutte le altre alle altre fotocamere quarta quarto motivo i controlli manuali sì ebbene sì sono per me diventati un vantaggio se qualche tempo fa io amavo effettivamente come canon avesse automatizzato il tutto e all'inizio sono rimasto un po' sconcertato dal fatto che fuji film era tornata ai come dire agli albori con i controlli completamente manuali spesso e volentieri i controlli manuali sono molto di aiuto quindi noi che siamo analogici trovarci di fronte a di controlli analogici è molto più semplice che non dover perdere tempo all'interno dei menu e trovarsi come dire a perdere effettivamente un sacco di tempo diciamocelo inoltre fuji film ha una configurabilità delle dei pulsanti e delle ghiere che assolutamente non ha uguali ultima caratteristica che potrebbe essere una stupidata potrebbe sembrare una stupidata in realtà non è così tanto una sciocchezza le batterie le batterie effettivamente delle mirrorless purtroppo chi più chi meno non durano molto perché comunque c'è da alimentare sempre sensore quindi ahimè le batterie non sono è una feature che mi interessa di fujifilm per la durata ma semplicemente per il prezzo le batterie originali costano relativamente meno rispetto a tutte le altre batterie ma il bello cos'è che le batterie di fujifilm non sono come quelle di altre brand con la codifica il chip all'interno per cui se vai a comprare batterie di terze parti ti trovi improvvisamente a non avere l'affidabilità e la percentuale residual non è esattamente quella no quindi se noi andiamo a comprare delle patona e vi consiglio delle patona premium o platinum costano infinitamente meno ovviamente del dell'originale vi potete fare una scorta di batterie e portare sempre dietro spendendo veramente 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 pochissimo vi do un come dire una caratteristica bonus che non è forse da valutare da sottovalutare scusate ma è assolutamente da tenere presente il prezzo i modelli di punta del di casa fujifilm costano infinitamente meno di qualunque altro brand probabilmente è il brand di mirrorless e ci ficcare dentro anche reflex a questo punto con i costi costi più bassi un ex i3 costa 1400 euro ed è il modello di punta di casa fujifilm parlando ovviamente di apsc se poi invece andiamo sul medio formato ovviamente il discorso cambia ma se parliamo semplicemente di apsc full frame ecco facciamo i confronti con con queste due tipologie quindi queste sono le mie cinque caratteristiche i miei cinque motivi per cui mi sono in qualche modo affezionato a fujifilm e spero di andare avanti ancora così per per molto quindi grazie per la visione vi ricordo come sempre di iscrivervi sotto al canale attivare la campanella così ricevete le notifiche condividere anche il video che è importantissimo e anche mettere ovviamente un like e per oggi è tutto ci vediamo alla prossima